Di malattia mianto correlate a Pistoia si continua a morire anche nel silenzio come in gran parte delle città che hanno avuto un passato industriale in cui questo materiale era molto utilizzato. A Pistoia per esempio veniva impiegato nella più grande fabbrica della città e nelle aziende dell'indotto per coibentare i convogli ferroviari. Quello che più fa paura adesso è il 2025 l'anno in cui è atteso il picco dei decessi tra i lavoratori colpiti da mesotelioma lavorando proprio alla costruzione dei treni. C'è il problema dell'amianto come diceva un nostro socio Marco Vettori che è quello che ha scoperto proprio il coperchio, ha sollevato il coperchio alla breda di questi problemi perché lui l'ha vissuto di prima persona e poi purtroppo ci ha lasciato molto presto. Diceva che il boom vero e proprio dell'amianto sarà il 2025 e noi di questo siamo preoccupati, siamo preoccupati perché prima di arrivare al 2025 si sta contando purtroppo tante vittime e tanti decessi. Ma le malattie professionali sono in forte crescita, non c'è solo l'amianto ormai a destare preoccupazione, proprio per questo l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ANMIL, apre a Pistoia dalla prossima settimana uno sportello pilota per indirizzare i lavoratori verso le varie visite di prevenzione e nel caso nell'istruire tutte le pratiche per il riconoscimento della malattia da parte dell'INAIL. Sì, questa è un'eccellenza che vorremmo che si espandesse in tutta la Toscana perché la Toscana è all'avanguardia su questo settore qui e con questo sportello noi daremo possibilità a tutti i malati che vanno contro una malattia professionale di avere una risposta, un accompagnamento vero e proprio per uno screening, è questo che noi vogliamo. Portello